è pieno nel centro dell'aria per me è benzina questa qui c'è no no è benzina e acqua sì ma così dovrebbe uscire dovrebbe buttartela fuori tanto esce puoi dimmi il rubinetto scusate che l'alzo per me è benza questa che c'è uscita sì può essere che sia no è acqua o no lo vedo mischiato tutte e due giù ancora pompa pompa esatto fai prima occhio al parafango non romperlo mi tieni manubrio eccola lì guardala lì sì sì no è acqua perco diviso vedi un po' di pompa prova ma tanto non ormai la marmita è piena adesso butta fuori tutto vedi un po' di pompa aspetti un momentino vuoi giù ok no non filmo io tiriamo chi mica lo può più e poi voglio vederlo su youtube questo video qua ho scritto Ionni e la pozzanghera maledetta io no, aspetta, chi mi chiamavo? pesciolino indicato dov'è la chiave? sotto la moto rimetti su quella decente è l'accendino Dario? no, è l'anno usati orcocca sennò gli diamo la scaldata vabbè ma adesso è fruttato tutto qua lo va per forza l'ha già fatto prima per andare ma meno male che non è andata prima si forse è stato meglio qualche centimetro al cubo d'acqua no, non più compressa si sparava fuori la candela almeno Roma ha postato in avano a parte che, scorsi, non poteva essere al cilindro altrimenti non riuscire a mangiare una chiamata sul pedale si la pompata dai travasi tu bagna la candela tu rigiri la ripompa su bagna la candela ma adesso la bagnerà ancora due volte se era quattro tempi buttavi via la biela il motore lo volete un Mars? nessuno lo vuole io se non mangio svingo devo per forza si svingo dimmelo in vialetto ancora si svingo che cazzo il vialetto è? di potenza quello lì? no no si svingo si svingo si senta giù in terra camia no? si svingo si svingo per tanto ti mettiamo come facciamo gli indiani ti mettiamo nella corrente e arrivi al campetto per forza vada via il chat vai ti raccomando in marcia eh quasi bagnato ancora e vabbè più ancora per caso c'è una chiave a brugola? no per che cosa? no no spostavo il sabatoio che mi rompe cazzo con una cagna se vuoi